Senza bruciante con il repentino vantaggio, Simic con il suo colpo di testa ricorda il suo primo gol di campionato. È determinante lasciar libero Moriero in cerca di riscatto. Su un potente tiro dall'esterno dell'area, Scarpi stavolta non arriva a tempo e l'Inter ottiene la sua vittoria sofferta e perciò, come detto, bella.